Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Le scatole sigillate relative al caso di Yara Gambirasio sono state aperte, rivelando al loro interno una scoperta che ha lasciato tutti senza parole. Una traccia genetica mai analizzata prima, che non appartiene a Massimo Bossetti. Ora, la condanna del muratore di Mapello è avvolta in un'ombra inquietante. È davvero lui l'assassino, o c'è un altro colpevole ancora in libertà? Un caso che sembrava definitivamente chiuso potrebbe presto riaprirsi con un colpo di scena clamoroso. Tra i reperti vi sono i leggings e gli slip che Yara indossava quando fu rapita nei pressi della palestra dove praticava ginnastica ritmica, sui quali era stata trovata la traccia di DNA 31 G20, inizialmente attribuita a Ignoto 1 e successivamente a Bossetti. Ci sono anche la maglietta, la felpa e altri indumenti che la tredicenne indossava. Tuttavia, gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno scoperto, oltre ai 54 campioni contenenti quella traccia, anche 23 diluizioni riconducibili alla stessa traccia 31 G20 e altre tracce anonime. Come temevano, i campioni sono stati conservati a temperatura ambiente, il che potrebbe averli deteriorati, cosa che verrà verificata. Alla domanda dei giornalisti, i legali hanno precisato, siamo seri. Prima di parlare di richiesta di revisione, dobbiamo effettuare delle analisi che ci consentano di avanzarla. Non possiamo fare una richiesta esplorativa. Ci sarebbe da scrivere un libro, hanno aggiunto. Prima ci è stato detto che il materiale era abbondante, poi che era scarso. Ora scopriamo che era in realtà abbondante, visto che ci sono 23 diluizioni. Soprattutto, emerge che queste analisi erano ripetibili sin dall'inizio. Il materiale esisteva, mentre la Corte d'Assise d'Appello e la Suprema Corte ci avevano detto che era esaurito. Oggi abbiamo la prova che ciò non è vero. Gli avvocati insistono. Per noi è una certezza che il noto primo non fosse Massimo Bossetti, anche al di là della prova genetica su cui si basa quasi esclusivamente il processo. Tuttavia, per parlare di revisione dobbiamo presentare elementi nuovi e distinti rispetto alla prova genetica.